Assessore Spandere, un cento anni del Golfo Dianese è un grande traguardo? Sicuramente sì, un traguardo bellissimo perché cento anni di storia di una società non sono cosa da poco. Mi ricordo volentieri questa giornata perché comunque la società sportiva, la Golfo Dianese, ha dato la possibilità in questi cent'anni a tantissimi ragazzi, tantissimi bambini diventati adulti di provare a praticare questo sport e soprattutto con una valenza sociale enorme. Quindi oggi con una grandissima gioia siamo qua ad accogliere la Golfo Dianese per il riconoscimento dovuto e giusto che gli viene attribuito. Ci sono anche tanti giovani per trasmettere quello che è il senso di appartenenza a una società storica come Golfo Dianese. Certo, oggi qua ci sono presenti tanti dirigenti, ci sono gli ex presidenti, ci sono tanti giocatori che sono passati da questa gloriosa società, ci sono tanti bambini che provano a diventare giocatori. Ricordo ad esempio uno che ce l'ha fatta come si dice adesso che sta giocando nei professionisti come Flavio Bianchi e io poi in modo particolare avendo giocato come tantissime persone qua del Golfo in questa società e poi essendo stato anche presidente per tantissimi anni ho visto anche io ragazzi bambini diventare uomini che oggi faccio fatica a riconoscere se non li vedo da tanti. Quindi una bellissima giornata. L'ultima battuta che valore ha lo sport per il comune di Diano Marina? Lo sport ha un valore enorme, è centrale e appunto come dicevo prima a parte l'aspetto sportivo nudo e crudo ha una valenza sociale enorme. Ricordiamo che adesso come adesso la nostra società purtroppo non dà spazio ai nostri giovani essere ragazzi per praticare dello sport liberamente, razzolare per il cortile come si diceva una volta ma queste società, questi volontari che hanno sempre più difficoltà e comunque tengono dura con la passione portano avanti e danno la possibilità a tutti questi ragazzi di praticare lo sport all'aria aperta e di togliersi da tutti questi social, questi media che fanno bene ma non benissimo. Grazie.